Elisa, sei nel regno delle due Sicilie? Ma io sono con Daniele, il pizzaiolo top di Letoianni, che oggi ci fai dare. Il panozzo fatto in casa, con la mia ricetta. E cosa c'è nella tua ricetta? Eh, sì, il sicuro non parla. Questi mica parlano! Lo taglia. Impasto siciliano. Un filo d'olio. Guardatelo. Una bella massaggiata. Lo riapriamo di nuovo. Crema al pistacchio. Ma è una base maionese, Daniele? Mica dice niente. Siculo, eh. Non parla. Andiamo a spalmare la crema di pistacchio come base. Una mozzarella di bufala affumicata. Direttamente da Napoli, signori. Che roba buona. Lo andiamo a mettere a bocca di forno. A bocca di forno. Lo sapete voi cosa vuol dire? E andiamo a far sciogliere la mozzarella di bufala. Questa roba buona, la roba siciliana. Eh, quanto diamo? Elisa, noi nel frattempo andiamo nella fettatrice. Mortadella d'asina. Mortadella d'asina. Uh, con il pistacchio dentro. No, vabbè. Tretti di mortazza in un panino. Voilà. Eh, ma ancora non è finita, eh. Non è finita, oh, Daniele. Direttamente da Bronde ci mostrerò la granella di pistacchio. Alla siciliana. Giusto due, due granelle. Giusto due. Vai, va. Si mangia in otto. Gattone. Mani in otto. Dai. Non abbiamo finito. Forse troppo poco calorico. Eh, un po' di granellina la vogliamo mettere? Che spettacolo. Grande! Ehi. 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 Ehi.